Musica Ciao ragazze bentornate o benvenute nel mio canale Oggi come avrete visto dal titolo faccio un video molto speciale che in realtà io avevo in testa da tantissimo tempo e non vedevo l'ora di farlo Perché per me la scrivania è un luogo dove io passo molte ore nonostante non sia proprio esattamente come la vorrei Cioè proprio tipo tumblr, tipo molto bianca, molto figa Ho cercato di personalizzarla e di renderla mia il più possibile Adesso vedrete durante il video Quindi spero che questo video vi possa essere utile magari per organizzare meglio i vostri spazi Che magari posso darvi qualche consiglio Visto che comunque so che siete qui per un solo motivo io non mi dilungherei più di troppo Quindi vi lascio il video e ci vediamo subito dopo Io direi di iniziare con una panoramica generale della mia scrivania Questo diciamo è il piano dove lavoro Sotto troveremo un cassetto che vi farò vedere molto velocemente perché mi vergogno E poi quassù ci sta una parte diciamo decorativa e vi dirò dove ho preso tutte le varie cose Quindi partiamo subito con questo piano E io direi di iniziare dai quaderni Da questa parte cui Allora qui diciamo che a sinistra ho tutti i miei quaderni che utilizzo per scrivermi appunti Note insomma cose della vita in generale Molti sono solamente molto carini Non so se noto come questo qui che vi avevo già fatto vedere nei miei regali di Natale Questo è un diario vecchissimo che ho da più di 10 anni Non sto scherzando Questo è il quaderno di appunti di Youtube che in realtà è un quaderno di Ikea Non so se lo vendono ancora ma vorrei cambiarlo La mia agenda Doki Book Questa qua è un'agenda che ho comprato da Tiger Anche questa qua ve l'ho già fatta vedere in un vecchio video E poi questa è un'agenda che in realtà mi è stata regalata ma non utilizzo Una vecchia ma per chi si intende questa è una mini Finsbury ed è una Filofax ed è veramente introvabile L'ho trovata in un mercatino per pochi euro Per chi si intende di agende sa Ecco sa di che cosa sto parlando Qui ho una mini agendina di Louis Vuitton originale E questi sono fichissimi perché sono dei sticky notes presi in Scozia in un negozio cartopazzo diciamo Questo è un reparto penne Qui ho tutti quanti i miei sharpies Sono dei pennarelli indelebili di vari colori Cioè di tantissimi colori in realtà mi sono stati regalati Questi qua invece sono delle novità per chi si intende di planning e di agende Si chiamano Tombow e sono dei pennarelli che hanno la punta diciamo a pennello Adesso ve lo faccio vedere E servono per fare lettering che è una cosa di cui mi sto appassionando da poco Questi qua sono nella versione pastello Se volete vi lascio il link giù sotto di Amazon dove li ho acquistati Una mini spillatrice È veramente piccola non so se rendo l'idea Poi questo qua è un bicchiere di Maison du Monde Ed è una tazza in realtà E qui ho tutte quante matite Sono matite tipo queste qua di Barbie che io colleziono in realtà perché non le utilizzo Vedete sono ancora da temperare E qui ho delle forbici molto carine E sono di evidenziatore di pastello di Stabilo Boss Questa qua è un'altra tazza di Maison du Monde Qui ho tutte quante penne Altre forbici Non so se sono ossessionata da queste forbici Penne di Barbie insomma Non so se rendiamo l'idea Penne colorate Queste mi piacciono molto Hanno la punta larghissima Adesso mi sposto sulla destra Questa qui è una lampada che ho preso da Primark Ed è molto carina È di un rose gold E mi piace tantissimo Qui abbiamo un bicchiere vero proprio di Starbucks E proprio di cartone Con all'interno vari pennarelli sempre di Stabilo O questi qua sono finti Stabilo Però mi piacciono tanto E un altro paio di forbici Perché non si sa mai nella vita Non si sa mai E sotto come vedete c'è una piccola cassettiera Presa dai cinesi con cose un po' inutili Questa qui come vedete è una cornice che ho preso da Ikea E all'interno ci ho messo il calendario di Mr. Wonderful Che stava nell'agenda dell'anno scorso L'ho incorniciato e mi piace molto come idea Poi qui sotto troviamo varie cosine Innanzitutto questo ve lo levo subito perché lo detesto Ed è un portascocce che ha più di 10 anni Anche se non sembrerebbe ma vorrei cambiarlo al più presto E questo qua che non ve l'ho presentato Ma è un regalo che mi hanno fatto a Natale Ve l'ho fatto vedere nel video dei regali di Natale Ed è una gomma da cancellare E mi piace un sacco come Cioè mi fa compagnia quel teschietto Poi qui c'è un chujolist Che è un taccuino molto carino Dove ci scrivo le prime cose che mi vengono in mente Se ho delle idee di getto E poi qui Oltre ai miei occhiali fantastici Che insomma utilizzo spesso e volentieri Tranne ora Qui di solito sempre alla destra del mio computer Troviamo la Mr. Wonderful Che è la mia agenda che sto utilizzando In questo momento Non ve la faccio vedere in questi giorni Ve la faccio vedere un pochino più avanti Ma è un'agenda stupenda È fatta benissimo Penso che insomma Chi non la conosce deve per forza Perché veramente È pastellosa Insomma come vedete Riprende molto il mio stile E all'interno Ecco mi è sfuggito questo Ci sta una piccola cartellina Questa qua è di È di Maison du Monde All'interno non ci sta niente di che Ci sono altri adesivi Ma io questa la tengo all'interno dell'agenda Mi è sfuggita Però vabbè rimarrà qua Il mio bellissimo computer Che aprendolo Ho questa scritta qui Che mi piace da morire Never stop creating Ed è una scritta che mi ispira molto Mi rispecchia come colori Perché è molto rosa pastello E poi questa scritta Mi incita moltissimo A creare ancora di più E qui invece di lato Ho queste cuffie Rosa Della Sony Pagate pochissimo Però Non le utilizzo spesso in realtà Ma le utilizzo Per quando mi voglio assolutamente concentrare Magari sto montando video E ho bisogno di più concentrazione possibile O di sentire i suoni In maniera Insomma Migliore Dopodiché Mi sposto verso l'alto Qui troviamo una cassettiera Che ho comprato Da risparmio casa Mi piace un sacco Che ha Questi colori pastello L'ho pagata Tipo 10 euro Non lo so Sapete ogni tanto A risparmio casa Le fanno queste cose E all'interno in realtà È vuota Non c'è molto Tranne in questo cassetto Che ho le mie Yankee Niente di che Poi A destra Vedete Flesciato dalla luce Ma adesso ve la faccio vedere Un pochino meglio Come Ve lo mostro Non si sa Ok Facciamo così E c'è scritto Do what you love every day Ed è di my son du monde Ed è questo rose gold Molto carino Questa piantina qui Che è di Ikea La trovate Nella sezione piante Qui invece Troviamo una composizione Fatta da me Ve la faccio vedere Un pochino più Nel dettaglio E' una gabbietta Che ho trovato Da Tiger E l'ho dipinta di nero Qui ci sono tipo Gli occhiali Fatti a specchio Una cosa di Dior Che mi hanno dato In una profumeria Per farmi provare Il profumo Ovviamente Questa qua Beh è una pochette Che avete già visto In qualche altro video Una mia foto Da piccolina Rendiamoci conto Mi piace vedere anche Questi Always have a choice Take me back Che sono comunque Delle frasi Abbastanza motivazionali Mi piacciono molto Poi qui Di lato Troviamo Una E che ho trovato Dai cinesini Non so se si vede Si percepisce Una candela Che ho trovato In Scozia In un negozio Che si chiama Home Bear Games Ed è Una candela Rose gold Con scritto Believe Questo era tutto Quello che riguarda Il piano di sopra La mia scrivania Quindi torniamo giù Come vedete Il pianale Della mia scrivania È fatto effetto Marmo E volevo condividere Con voi Questa piccola cosa Perché è una novità Della mia scrivania Che mi dà Veramente tanto Tanto Cioè mi piace tantissimo Perché mi dà Come se fosse Un po' più bianco E questa cosa Mi piace tanto Perché la mia stanza Come vedete È di questo colore qua E non mi piace per niente Il segreto è semplicemente Che ho comprato Dalle Roamerlen Un pezzo di compensato Veramente finissimo Che mi sono fatta Tagliare Direttamente lì E costa una cosa Come 50 centesimi Forse uno tagliare Perché è veramente Una sciocchezza Voi comprate Questo pezzo di legno Loro lo tagliano Con le misure Che volete voi Io poi l'ho adattato Alla mia scrivania E l'ho ricoperto Con una carta Adesiva Con effetto marmo Poi voi volete Scegliere quella Che volete Però mi piaceva Tantissimo Quest'idea Che ho copiato Da Valentina Delzetta Che è una ragazza Che ha un Diciamo che è un Instagrammer Perché è principalmente Un Instagrammer E anche una YouTuber Vi lascio sotto I suoi link Se volete andarla A conoscere Perché è veramente Molto brava E nel frattempo Si è attivato Questo salvaschermo Qui Per chi ha il Macbook Ogni tanto Me lo chiede Come si fa Quindi sotto Giù nell'info box Vi magari Linko il tutorial Su come scaricare Questo orologio Perché senza Che mi fate ulteriori domande Trovate giù il link E adesso È il turno Del cassetto Che vi aprirò Ma non ne vado Molto fiera Adesso capite Perché insomma Qui ci stanno Cioccolate Queste sono Guffiette Delle matite Che mi servono Magari per decorare Gomme Caramelle A non finire Qui ho Questa qua È una tavoletta grafica A bambù E questo qua È un set Fichissimo Con la gomma Le puntine Che ho Qui al lato Troviamo Il Your Best Year 2018 Your Best Year Questo è il Business Edition E questo è il Life Edition Sono dei libri Che sono in inglese E servono Diciamo A motivare A Almeno io li sto utilizzando Così E servono tantissimo Perché quest'anno Stanno accadendo Delle cose stupende Qui richiudo Vi faccio vedere Da lontano Di nuovo La panoramica Della mia scrivania E niente ragazze Spero che vi sia piaciuto E ci vediamo Bentornate Come è stato Vi è piaciuto Spero davvero Che vi sia stato utile Questo video O almeno Che vi abbiate Tenuto compagnia Non scordatevi Di lasciarmi un like E di lasciarmi Un commentino Qua sotto Magari se avete Qualche altra domanda Da farmi Oppure lasciatemi Un cuoricino Se siete arrivate Fino a qua Iscrivetevi al canale Se ancora Non lo avete fatto Guardatemi Sono molto seria Iscrivetevi al canale Io vi mando Un bacione enorme E ci vediamo Al prossimo video Ciao